Un'iniziativa per promuovere un'alimentazione sana e controllata attraverso una serie di attività indirizzate ai bambini, alle loro famiglie e ai pazienti diabetici. Il Festival dei Cinque Colori è un progetto dell'Associazione Pancrazio in collaborazione con l'Università Federico II. Il Festival dei Cinque Colori nasce dal progetto che noi abbiamo presentato un po' di anni fa nelle scuole che si chiama Dammi il Cinque. Noi abbiamo incentrato tutto il nostro progetto sui cinque colori del benessere che sono il bianco, l'arancione, il rosso, il verde e il viola. Quindi abbiamo nelle scuole creato cinque supereroi un cartone animato, un libro illustrato e abbiamo iniziato il nostro percorso di educazione alimentare che è andato sempre meglio, i bambini si sono legati ai supereroi e al nostro progetto e quindi da lì abbiamo deciso di ampliarlo al pubblico, a un pubblico più vasto. Nell'ambito del Festival sono stati premiati gli sportivi Gianni e Marco Maddaloni per il loro impegno sociale. Premiato anche l'artista Alessandro Ciambrone, autore di una performance dal vivo. Io quando sono andato a Sydney ho detto al nostro signore, a mio Dio, che se riuscivo a vincere la medaglia d'oro avrebbe dedicato la mia vita al mio quartiere e questo l'ho fatto perché lo sport a Scampia non fa altro che portare legalità, portare non violenza. Quindi ci troviamo di fronte a quello che è realmente il compito dello sport e io lo uso piacevolmente perché io amo la mia gente. La disciplina veramente è l'ABC, il segreto per andare avanti. Il Judo me ne ha dato tanto, ora lo sta facendo con mio figlio. C'è il rispetto per l'avversario, il rispetto per il tatami. Ecco due parole importantissime, educazione e rispetto fanno sì che un giorno tu possa essere un grande uomo. Ma io penso che i colori facciano bene all'anima, quindi per me dipingere è un atto fondamentale per la felicità della mia vita e immagino che possa esserlo anche per gli altri. Al festival, che si concluderà domenica 21, sono attesi fra gli altri il professor Paolo Ascierto, il sindaco Gaetano Manfredi, padre Maurizio Patriciello e i comici Peppe Iodice e Nino Frassica.